Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Con estremo piacere sono a parlare di una delle mie serie tv preferite. Ho rimandato, ho rimandato, ho rimandato e alla fine c'è stato qualcosa che mi ha potuto dare l'occasione di parlarne. Sto parlando di Buffy, l'ammazza vampiri, Buffy the Vampire Slayer, di cui di recente Joss Whedon ha rilasciato un reboot a fumetti, ragazzi, ambientato nel 2020. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella delle notifiche, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che conoscete e di commentare qui sotto con quello che ve ne pare di Buffy, l'ammazza vampiri, per quanto riguarda sia questo fumetto che la serie tv. Vi ricordo anche di iscrivervi agli altri miei social, ovvero Instagram, se volete c'è anche Facebook, c'è Twitter, c'è eventualmente adesso ho aperto per l'occasione per Buffy ho aperto TikTok, ce l'avevo già, adesso l'avevo chiuso, l'ho riaperto, e Dulcis in fundo vi ricordo anche che io ho il sito Viola che non uso mai, ma questa sera alle ore 9 quando finisce questo video farò una live di Watchtogether sulla prima puntata di Buffy del 1997 o forse 1996, comunque guarderemo insieme la prima puntata, mi raccomando segnatevi quest'ora, canale Viola, quello che inizia per ti e finisce con strega in inglese, tanto per stare in argomento, alle ore 9. Bene, Buffy l'ammazza vampiri. Ora, cosa devo pensare io di un reboot di Buffy? Una serie che io amo alla follia, ho tutti i DVD di Buffy, ho tutti i DVD di Angel, ho visto, ho letto scusate la stagione 8-9 a fumetti che è il proseguo ufficiale canonico della serie tv, ho letto la sesta stagione ufficiale a fumetti di Angel, Angel After the Fall, Angel dopo la caduta in italiano, ho letto lo spin-off Angel e Fate ambientato durante la stagione 9 di Buffy, quella a fumetti ovviamente, purtroppo non ho ancora letto la stagione 10 perché non è mai arrivata in italiano, ho fatto il cosplay di Spike, mi vestivo come Angel, insomma, io questa serie la adoro ed è proprio per questo che avevo tantissima paura di leggere questo fumetto perché nonostante io me la cavi con la tecnologia un pochino la... non mi piace che sia entrata così a gamba tesa nella vita di tutte le persone, in particolar modo i telefonini, gli smartphone, e il fatto che ci fosse una Buffy nel 2020 con un paletto in mano e uno smartphone poteva fare in modo che non mi piacesse questo numero, però d'altronde è così, cioè il simbolo per antonomasia di questa generazione, ma non solo di giovani, di questi anni, è lo smartphone che ha creato una rivoluzione tecnologica al pari della rivoluzione industriale ai tempi e quindi è normale che a distanza di pochi anni, a distanza di 20-30 anni, il mondo sia completamente cambiato. Questa cosa poteva spaventarmi, ho letto il numero, ho pensato, lo voglio leggere come se fosse una versione Ultimate di Buffy, ovvero, per chi conoscesse Spider-Man, che è nato nel 62, dai fumetti della Marvel Comics, negli anni 2000 hanno fatto una versione ambientata negli anni 2000, chiamato Universo Ultimate, in cui c'era Ultimate Spider-Man, per lo stesso motivo, per svecchiare quello che era un ragazzino negli anni 60 e portarlo al pubblico adolescenziale degli anni 2000. Questa cosa, questa cosa di Buffy, io l'ho interpretata nello stesso modo ed è così che sapevo che potevo apprezzarla veramente e così è stato. Il fumetto mi è piaciuto, in generale mi è piaciuto. Ci sono alcune cose che io avrei fatto, cioè, io avrei fatto meglio, che avrei preferito avessero trattato meglio, adesso le vediamo, però in generale, soprattutto anche a livello citazionistico, mi è piaciuto tantissimo. Due note non spoiler prima di addentrarci in tutte le citazioni che ho trovato su questo numero. Questo numero, che per noi è un numero 1 in cartonato, in copertina rigida, del costo di 19,90€, che racchiude i primi 4 numeri americani. Quindi, sostanzialmente, vi sto facendo la recensione dei primi 4 numeri. Se siete interessati a comprarlo, guardate sempre che giù nella mia descrizione del video ci sono dei link Amazon e vi metto questo, vi metto un po' di cose del mondo di Buffy, così, se per caso non avete i DVD per fare le live di Watch Together, ve li comprate eventualmente e ce li guardiamo assieme. Questi primi 4 numeri, questo primo volume cartonato, ci butta subito nel mondo di Buffy, della Scooby Gang. La Scooby Gang è un nome che è stato dato ai comprimari di Buffy, a Xander, a Willow, a Cordelia, tutti quelli che hanno aiutato Buffy, perché la cacciatrice di vampiri solitamente è sola, l'eccezione è proprio Buffy, perché il motivo per cui Buffy è sopravvissuta così tanto, anche nell'universo narrativo della serie TV, è il fatto che lei fosse circondata da amici. Questo reboot mescola tutte le carte in tavola di quella che è stata Buffy, come è giusto che sia un reboot ambientato ai giorni nostri. La cosa bella di questa rimescolanza di carte in tavola è che toglie molto superfluo, non vi dico cosa, poi magari ve lo dico nella parte spoiler, ma toglie molte cose superflue che ci sono state all'inizio della prima stagione, che hanno probabilmente fatto fatica a far ingranare il successo di questo telefilm, hanno subito gettato nella mischia tutti i pezzi da 90. Il rovescio della medaglia di questo fumetto è proprio questa velocità, non perché abbiano gettato appunto subito le carte migliori nei primi quattro numeri, ma proprio perché l'introduzione del concetto Buffy, del concetto ammazza vampiri e della Scooby Gang, di quella che noi conoscevamo anche già nel telefilm, è stato gettato troppo in fretta, cioè le basi le hanno gettate troppo in fretta. E per me, che conosco Buffy a mena dito, va benissimo, ma una persona che magari l'ha un pochino vista e non vista negli anni 90, o peggio ancora, un millennial, un ragazzo che non sa cosa sia Buffy e si affaccia per la prima volta a questo magico mondo, leggendo le prime pagine si trova un po' spaesato, cioè ok, lei è una cacciatrice di vampiri, ma perché lei sì e Xander no? Qua dice nei primi numeri che ha risposto a una chiamata, però non viene specificato che ha dei superpoteri, viene definita da Xander una supereroina, ma il concetto non è spiegato molto bene. Sarebbe stato meglio se Giles quantomeno avesse fatto il suo solito discorso, la pappardella che veniva detta a ogni episodio, cioè per ogni generazione nasce una prescelta, lei è la cacciatrice, si erge contro i demoni, bla 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 bla, questa cosa qua, potevano farla, non l'hanno fatta, è stato gettato un po' in fretta, però penso che nonostante questo possa affascinare comunque i lettori, che magari leggendo poi i numeri successivi verranno introdotti in questo mondo. Prima di iniziare a parlare della parte spoiler, che come sapete io se non faccio spoiler sto male, inizio a grattare le pareti con i denti, un'ultima cosa la voglio dedicare al disegno. I disegni sono fantastici, sono esattamente come le stagioni 9, scusate 8-9, anche la 10 che ho intravisto a Fumetti, sono... i personaggi sono abbastanza cartuneschi, cioè proprio da cartone adolescenziale, ma ciò nonostante riescono a tenere la fisionomia dei personaggi, anche più per esempio del fumetto di Ghostbusters. Qua vediamo proprio l'aspetto di Sarah Michelle Gellar, di quando aveva 16 anni, vediamo l'aspetto di Xander, l'aspetto di Giles, vediamo l'aspetto di Willow, su cui poi mi concentrerò un po' di più nella parte spoiler. Tutti i personaggi si assomigliano molto, per non parlare delle tavole che ci sono all'inizio e alla fine, che ve le posso anche mostrare, perché tanto non c'entrano con la trama assolutamente, sono solo delle tavole per rilanciare, credo i fumetti negli Stati Uniti, potrebbero essere le copertine, che sono ancora più belle, sono ancora più... i personaggi si assomigliano ancora di più, vedete una Alison Hannigan al suo meglio, vediamo uno Spike e una Drusilla, vediamo... qua vediamo ecco un tentativo di svecchiare il trio di ragazze che c'è nella prima stagione, ovvero Willow, Buffy e Cordelia, Buffy ha Slayer dietro il giubbotto, qui per qualche motivo però, ripeto, sono slegate alla storia, vediamo già una Buffy con la toga del diploma, come sapete la toga del diploma color rosso sangue che c'era nella terza stagione di Buffy, tante cose, tutte molto belle, ovviamente la copertina, che ve lo dico a fa anche qua, si vede tantissimo la sembianza di Sarah Michelle Gellar, quindi questa cosa proprio per chi ha seguito la serie è fantastica. Passiamo ora finalmente alla parte più succosa, ovvero alla parte spoiler e alla parte citazionistica, ovvero il mio territorio, il mio pane. Allora, se non avete letto ancora questo fantastico numero, compratelo nei link qui sotto, schippate, leggetevelo e tornate a vedere questa parte di video. Siete pronti? 3, 2, 1, spoiler! Allora, pare che il big bad di questa stagione sia Drusilla. Hanno eliminato tutta la parte della prima stagione in cui il cattivo di turno era il maestro, che è proprio lo stereotipo del vampiro nosferato, che ci introduceva in modo molto più graduale e molto più classico al mondo dei vampiri. Ma proprio perché vogliono svecchiare questo personaggio, hanno subito usato i cattivi più pop che Buffy abbia mai avuto, ovvero Spike e Drusilla. In particolar modo Drusilla. Vediamo una Drusilla più autoritaria, non è una Drusilla indebolita dalla malattia, indebolita da quello che è successo nella serie TV all'inizio. Non c'è Spike che protegge Drusilla perché è fisicamente debole. Vediamo una Drusilla al massimo della forma, una Drusilla cattivissima. L'unico legame che ha con la Drusilla televisiva è il fatto che sia un po' fuori dal tempo. Lo vediamo perché non è in grado di utilizzare i famosi smartphone che non solo sono simbolo di questi tempi ma servono anche alla trama. È stato fantastico che abbiano utilizzato questo simbolo, cioè lo smartphone, per lo svolgimento della trama, dei primi numeri. Drusilla è la classica boomer, quindi che non sa usare un telefonino e Spike, che è più giovane di lei, sia all'anagrafe, ma sia proprio come stare al passo coi tempi, riesce a utilizzare il messaggino. Ecco, a parte questo, Drusilla è un altro tipo di Drusilla. Forse anche il fatto che non sia l'attrice Juliette Landau o Landau a interpretarla può aiutare, perché, non so, io l'ho sempre vista in italiano, ma nonostante questo mi è sembrato che l'attrice fosse sempre monoespressiva. Persino il suo trucco da vampiro era più piatto degli altri. L'assenza dell'attrice che la interpreta probabilmente ci ha regalato una Drusilla un pochino più profonda. Un'altra cosa che cambia è il rapporto con Spike. Non c'è questo rapporto di Mad Love che avevano nella serie televisiva, c'è più un rapporto tra padrona e servo. Come sapete, se non lo sapete ve lo dico io, Drusilla ha generato Spike, ovvero Drusilla ha vampirizzato Spike, William, però poi, come spesso accade tra coppie di vampiri, l'ha vampirizzato perché gli piaceva e poi sono diventati una coppia. Qua, invece, vediamo proprio che si mantiene il ruolo di lei madre e lui figlioccio. Non li abbiamo visti più di tanto. Sì, si capisce che hanno una relazione, ma vediamo già Spike che sembra quasi essere stufo di Drusilla. Come in un fumetto ultimate che si rispetti, hanno ben pensato di non inserire i personaggi cronologicamente come li abbiamo visti nella serie tv, ma di inserire subito tanta carne al fuoco, ovvero di mettere i personaggi che nell'arco delle sette stagioni televisive sono stati importanti per questo telefilm. E così vediamo subito Anya, che tra l'altro, ecco, non era disegnata benissimo. Io pensavo, perché la vediamo subito in un negozio di magia, io pensavo che fosse Amy, la strega che appare nella terza puntata della prima stagione di Buffy, poi si trasforma in un ratto, eccetera, eccetera. Io pensavo fosse Amy. Invece la chiamano proprio per nome, la chiamano Anya e poi la chiamano Anianca. Quindi ci fanno capire subito che questa Anya è già un demone. Questo demone, Anianca, è molto più vecchio della sua controparte televisiva, perché la controparte televisiva aveva 1300 anni. Qua invece si parla che Anianca possedeva un manufatto dal 500 avanti Cristo, se non hanno tradotto male, perché in inglese A-C è After Christ. Se l'hanno tradotto male, vabbè, ha comunque un 1500 anni, più o meno. Se no, ne ha molti di più. Mi piace molto che Anya sia già proprietaria del Magic Shop, che abbia una nomea tra i vampiri e che, a sua detta, si consideri la Svizzera. Cioè lei conosce i vampiri, conosce gli umani, ma vuole tenersi in disparte. Non si sa bene che ruolo abbia. Se serva un oscuro signore, se sia un demone della vendetta, la chiamano demone e strega, ma può essere un insulto che gli danno i vampiri. Quindi non è detto che sia davvero un demone e strega. Come detto prima, volevo parlare nella parte spoiler di Willow, Willow Rosenberg, interpretata dalla fantastica Alison Hannigan, che probabilmente vi siete goduti anche nel telefilm How I Met Your Mother. Willow la vediamo subito nella sua tenuta un po' più pop, quindi col capello corto, col capello già rosso, tinto di rosso, e con dei vestiti molto moderni, diciamo, molto alla moda. Invece, questa è una cosa molto bella, perché vediamo già la Willow come è stata per la maggior parte delle stagioni, quando è sbocciata, nonché quando ha fatto coming out. Effettivamente, al giorno d'oggi, è più corretto avere una Willow già sbocciata, già uscita dalla sua timidezza. Tra l'altro è già, pare apertamente lesbica, quantomeno con i suoi compagni di scuola, non nasconde assolutamente il suo orientamento sessuale, addirittura ha una fidanzata, Rose, che però non fa parte della Scooby Gang, perché non è stata aggredita dai vampiri, quindi la tengono un po' all'oscuro. Quindi ha questa fidanzata che però è fuori dal gruppo. Sembra che ci sia tanto per esserci, tanto per far capire che c'è già una Willow lesbica con una fidanzata, ma mi sa tanto che questa Rose potrebbe essere una vittima sacrificale dei vampiri, a breve, spero di no, ma è probabile. O magari la introdurranno lentamente, perché è un personaggio che nella serie tv non c'era. Mi è piaciuta molto questa cosa, ma allo stesso tempo mi spiace che chi non conosce la Willow originale si perda la crescita del personaggio che ha avuto nella serie, perché nella prima stagione Willow aveva i capelli castani molto lunghi, si vestiva come una suora, scusate suore se mi seguiti, ma nel senso si vestiva come un'educanda, era molto timida, veniva presa in giro da Cordelia, aveva una cotta per Xander e non veniva ricambiata, Xander aveva una cotta per Buffy e non veniva ricambiato. C'era tutta sta cosa qui nella prima stagione. Finché poi è sbocciata gradualmente, si è affacciata alla witchcraft, ha tinte i capelli di rosso, dopodiché si è tagliati, si è messa con un musicista che era anche un lupo mannaro, dopodiché è stata mollata da questo lupo mannaro, si è scoperta omosessuale, si è dichiarata con Buffy, con gli altri suoi amici, si è messa con Tara, ha perso Tara, si è messa con l'altra ragazza che adesso con Kennedy, che aveva il carattere opposto a Tara. È stata una crescita di un personaggio fantastica, qui è stata gettata un po' troppo nella mischia, però nulla ci... cioè, non è detto che comunque da queste basi ci sia un'ulteriore evoluzione della Willow Ultimate, chiamiamola così. Ci mostrano subito già Rupert Giles, che oltre a fare il bibliotecario e l'osservatore, strimpella la chitarra all'aperto in un bar di Sunnydale, cosa che noi invece avevamo visto solo dalla quarta stagione, quando Giles non aveva più il suo lavoro da bibliotecario. mi piace che hanno fatto vedere alcuni momenti della vita di Giles, hanno fatto vedere un momento in cui sta guardando un film con una donna che ha l'aspetto vagamente di Jenny Callender. Vediamo una Buffy, che nonostante abbia 16 anni, dovrebbe essere al suo secondo anno di liceo, ha già un lavoro, che francamente era più plausibile negli anni 90 che non adesso nel 2020. Ma queste sono cose che vedo io da 35 anni, spero vivamente di sbagliarmi. Questa Buffy lavora in un fast food a base di pesci, mi ricorda molto il lavoro che ha fatto Buffy nella sesta stagione, sempre in un fast food, che però era tutto vegetariano, se non sbaglio, e ricorda anche un po' il lavoro che Buffy ha fatto come cameriera tra la seconda e la terza stagione, cioè quando dopo che aveva ucciso Angel, o così pensava, si è allontanata ed è andata a Los Angeles a fare la cameriera, con il suo falso nome, barra secondo nome di Anne, o anni, non mi ricordo la pronuncia. Vediamo Cordelia, una Cordelia stranissima, che pensavo fosse falsa, invece sembra davvero gentile con tutti, neanche a farlo apposta, ha un capello mosso e bicolore, come la Cordelia del telefilm Angel, cioè quando è andata a Los Angeles a fare la segretaria per Angel, ed è diventata un pochino buona, è diventata gentile con tutti. Vediamo già questa versione di Cordelia, il simbolo di questa cosa sono i capelli, perché mentre nelle prime stagioni Cordelia aveva questi lunghi capelli lisci e neri che quasi la facevano sembrare un po' un corvo, un po' il personaggio cattivo, non cattivo della stagione, che poi si è evoluto. Qua sembra già una Cordelia molto buona e può essere frainteso perché è buona con Buffy che è la protagonista, ma vediamo persino che ha un confronto con Willow alla pari e si rispettano e si abbracciano e Willow invidia Cordelia ma in modo positivo perché è un simbolo positivo per la scuola di Sunny, e questa cosa ci spiazza tantissimo. Vediamo solo un pochino della vera Cordelia nel finale quando chiaramente gli eventi soprannaturali sono talmente tanti che viene sopraffatta e si sfoga con Buffy dicendo Buffy ci farai ammazzare tutti, che è quello che poi diceva la vera Cordelia nel telefilm. Sempre Cordelia è colei che ha il primo incontro con uno dei due big bad del volume che è Spike. Spike non incontra Buffy per la prima volta ma incontra Cordelia prima di Buffy. Questo causa anche in Cordelia una specie di cottarella, un'infatuazione, vediamo Cordelia che pensa a Spike, ed è molto carina come cosa perché per esempio nel telefilm Cordelia si era presa una cottarella per Angel nei primi numeri, scusate, nei primi episodi. Sempre girando intorno al mondo di Cordelia e di Spike vediamo subito Harmony che è un'amica di Cordelia che si vede subito che è uguale alla stessa Harmony del telefilm quindi è una classica bionda stupida. Il fatto che Spike già non abbia questo rapporto d'amore con Drusilla potrebbe farci sperare, tra virgolette perché non è che mi piaccia il personaggio di Harmony però potrebbe farci sperare che Molly presto Drusilla per vampirizzare Harmony e mettersi con lei non che abbia vampirizzato lui Harmony nel telefilm Harmony è stata vampirizzata durante l'ascesa del sindaco come demone e poi si è messa con Spike però qui potrebbe generarla Spike e potrebbe diventare la sua nuova fidanzata. Anche alla luce del fatto che in questo numero pare che i vampiri abbiano dei ciondoli che ricordano molto la gemma di Amara la famosa gemma che però era un anello nel telefilm che rendeva i vampiri immortali scusate, invulnerabili invulnerabili al paletto nel cuore alla luce del sole, all'acqua santa, eccetera, eccetera questi ciondoli più o meno sono simili ma pare che esigano un prezzo alto da pagare non si è capito cos'è questo prezzo allo stesso tempo vediamo che Ania riesce, nonostante i vampiri abbiano questo ciondolo sul collo a ucciderli quindi probabilmente è Ania che ha modificato questi manufatti perché avessero questi particolari poteri lo scopriremo nei prossimi numeri sempre stando attorno al nome Cordelia a me è piaciuto un sacco che già nel primo numero ci sia un enorme drago distruggi i vampiri mi ha ricordato molto il drago che c'era nella stagione 6 di Angel quella a fumetti o nel finale della quinta stagione di Angel dove c'è un drago questo drago nella sesta stagione viene chiamato Cordelia in onore di Cordelia Chase mi è piaciuto molto che ci sia questo personaggio anche perché poi potrà essere usato in futuro senza essere troppo un deus ex machina troppo forzato un'altra introduzione inaspettata che lì per lì quando ho letto la quarta di copertina mi aveva fatto storcere il naso è un nuovo amico di quella che non è ancora nella Scooby Gang ma sembra essere un'infatuazione amorosa di Buffy una crush come dite voi giovani sto parlando del personaggio di Robin il personaggio di Robin è Robin Wood Robin Wood nella serie tv non aveva l'età di Buffy aveva di sicuro qualche anno in più per lo meno perché Robin Wood è il nuovo preside del liceo Sunny del quando nella settima e ultima stagione televisiva viene ricostruita la scuola questo preside allo stesso tempo era anche il figlio di Nicky Wood la cacciatrice di New York uccisa da Spike negli anni 70 l'uccisione di questa cacciatrice vi ricordo anche che Spike da quando ha saputo della conoscenza delle cacciatrici è andato in giro un po' per il mondo per avere un primato cioè per essere il vampiro che ha ammazzato più cacciatrici ha ammazzato una cacciatrice durante la rivolta dei boxer in Cina ha ammazzato Nicky Wood a New York rubandole lo spolverino di pelle cioè quel cappotto che arriva fino ai piedi di pelle che è tipico, iconico di Spike e poi si è recato a Sunnidel sia per guarire Drusilla ma anche per uccidere la terza cacciatrice non riuscendoci perché appunto ha incontrato Buffy tra l'altro questo Spike non ha ancora lo spolverino di pelle che arriva fino ai piedi è ok che si vuole un po' svecchiare i personaggi però è troppo iconico quello spolverino quindi mi viene quasi da pensare che Robin Wood, questo Robin Wood abbia tuttora la madre che magari la madre sia una cacciatrice che si è ritirata e Spike magari la uccide nei prossimi numeri rubandole il cappotto quindi potremmo vedere in diretta l'odio di Robin Wood per Spike c'è un ultimo nuovo personaggio che hanno introdotto che è il compagno della madre di Buffy Buffy ha due genitori sono divorziati suo padre vive a Los Angeles è visto pochissimo nella serie televisiva sua madre vive con lei a Sunnydale sua madre non ha mai avuto un compagno nella serie televisiva tranne in un episodio peccato che in quell'episodio il suo compagno era Ted che è interpretato da John Ritter che si è rivelato essere una specie di robot autoreplicante una cosa un po' così non so se questo personaggio Eric che è un personaggio molto positivo si possa rivelare essere un cattivo più avanti nei numeri tutto il numero è narrato dal punto di vista di Xander che è corretto se ci pensiamo perché è quello più legato ai fumetti della Scooby Gang Xander Harris e quindi è come se lui tenesse un diario in cui racconta quello che noi leggiamo è un Xander molto depresso diverso dall'oxander pubblico a cui siamo abituati è depresso, è quasi rancoroso scopriamo solo alla fine del numero che tutta questa sua tristezza viene dal fatto che come nella controparte televisiva ha una cotta per baffi che non viene ricambiata onestamente ho temuto che per tutto il numero Xander potesse diventare cattivo e quello mi avrebbe spiazzato un po' troppo perché Xander è il cuore della Scooby Gang e farlo diventare cattivo dei primi numeri mi avrebbe molto spaventato questa mia paura però non è svanita del tutto perché il numero si conclude con Xander che sta per essere vampirizzato da Drusilla infatti uno degli assenti della Scooby Gang in questo numero a fumetti è il miglior amico di Xander se non sbaglio si chiamava Jesse correggetemi se sbaglio sto andando a memoria quello che sembrava all'amico un po' antipatichino della banda viene vampirizzato subito nelle prime due puntate e quindi Xander ha questo odio naturale per i vampiri perché ha perso il suo miglior amico questo miglior amico non c'è nel numero a fumetti ma pare essere proprio Xander la vittima sacrificale dei primi episodi spero che non lo sia e la mia speranza è dettata anche dal fatto che nell'ultima tavola nell'ultima vignetta un altro personaggio fa capolino da dietro un vicolo e chissà probabilmente salverà Xander chi è questo personaggio lo vedremo nella prossima recensione al numero 2 di Buffy che vi metto sempre in descrizione così voi ve lo comprate già ve lo leggete con calma e poi quando uscirà la prossima recensione ne parleremo meglio insieme fatemi sapere se la prossima recensione la volete credo la farò tra un mese perché? perché questo mese è già molto ricco di altri eventi per esempio il Dilan Dog Colorfest il Dilan Dog Oldboy il Dilan Dog Regolare che esce a fine mese quindi molto probabilmente anche per non sprecare tutte le cartucce di questo fantastico reboot ce lo facciamo il prossimo mese io come sempre vi ringrazio di avermi seguito fino a qui vi ricordo che alle 9 sul sito Viola c'è la live in cui guarderemo insieme la prima puntata di Buffy Ammazza Vampiri e risponderò a tutte le domande della chat come sempre io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e arrivederci al prossimo video